Buonasera su Clivo TV, amici di Metal Detector di Sotterral Underground. Io sono in compagnia del mio compagno di viaggi, Alessio. Ciao a tutti. Buonasera, stasera qui con noi ci sono i One Cares e mandiamo subito la loro scheda tecnica. Nel 2012 la scena musicale apre le porte a Enoch, anagramma di No One Cares. Nel 2015 il loro primo album, Dirty. Negli anni a venire si susseguono singoli, esperienze, sopra e sotto palco. Nel 2021 si preparano a presentare al pubblico un nuovo materiale. E noi, qui su Metal Detector di Sotterral Underground, lo aspettiamo. Questa sera, No One Cares. Metal Detector Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao, buonasera. No One Cares. Quando nasce questo progetto? Questo progetto, intanto buonasera un'altra volta, nasce nel 2012. Praticamente io e la mia batterista Elena, si è intrapresso questa, ci venne, insomma... Questa avventura. Questa avventura e niente, è partita da lì e ci siamo messi in moto a cercare compagni e alla fine è nato questo gruppo. Un altro gruppo, un progetto. Sempre di più. Ecco, il vostro genere musicale come lo potreste inquadrare? Ma io... come lo potrei... diciamo che un crossover, non è nenhum metal, una via di mezzo. Un'alternative. Abbiamo preso spunto da più generi, quindi non è proprio un genere definito. Venivate anche da altre formazioni in precedenza? No, praticamente subito, nato e rimasto, va bene, abbiamo avuto dei cambiamenti ultimamente, ma diciamo fino al disco è stata sempre la formazione di base. e ora ultimamente abbiamo il nostro nuovo cantante, la new entry. Il nuovo frontman. Sì che, niente, diciamo che come tutti, via, degli alti e bassi, ma tutto si cerca di portare avanti. Si cerca di portare avanti il progetto. Ottimo. Ecco, ma avete avuto all'inizio della carriera, di solito si inizia sempre facendo le cover e poi magari si inizia a fare genere proprio. Voi avete iniziato così o siete stati partiti? Allora, no, noi... Allora, io e lui, magari sì, avevamo un altro gruppo dove facevamo solo cover. Però con questo progetto qui dal 2012 siamo partiti subito con pezzi originali nostri, senza qualche cover, perché all'inizio, le prime serate, i pezzi erano pochi. per trovare un po' di tempo, sì, qualche cover, però no, no, subito pezzi nostri originali. Siamo partiti, se ne metteva uno, si partiva con le cover, poi si buttava un pezzo nostro e si vedeva che magari sul pezzo quello fatto, la reazione, che prendeva bene alla gente e si disse perché facciamo più le nostre, eliminiamo una cover e si mette... Nessuno se ne accorgeva e da lì dopo ci ha preso di dire via, mettiamoci a fare i nostri. E da lì poi nel 2015 abbiamo fatto il disco che si intitola Dirti e niente... Il vostro primo progetto? Il nostro primo progetto, abbiamo fatto qualche compilation, però... Qualche singolo? Niente... Il primo disco, sì. Chi è principalmente che compone all'interno della band? Ma come tutti, credo, quando sei alle prove, ha visto ogni tanto, ti dai allo svago, un po' in lino, uno si mette a improvvisare... Un insieme di idee, lui magari ci mette prima, non so, un riff di chitarra e poi in stanza gli andiamo tutti dietro, ecco. Ecco, ma i testi delle canzoni per voi sono importanti? C'è uno che fa il songwriting, scrive? È il cantante. Solitamente lasciamo fare al cantante suo libero. E gli argomenti dei brani? I testi? Di cosa trattano? Ma un po' di tutto, un po' di tutto, dalla società fondamentalmente, niente di specifico, niente di politico, niente di... È la vita quotidiana di tutti i giorni che ispira poi ai pezzi, ai testi, sì. Avete partecipato a qualche festival, concerti importanti che vi sono rimasti nel cuore? Concerti ne abbiamo fatti, diciamo, ultimamente siamo andati a aprire a un gruppo, insomma, a Benediction, a Carpi, ci siamo, insomma, divertiti. Bella serata. Bella serata. Ecco, raccontateci un aneddoto di questa serata, il primo che vi viene in mente. Posso raccontarne uno che magari... È bellissimo. Farà anche ridere. Soprattutto. Ma diciamo, quando siamo arrivati lì... Siamo arrivati da Pistoia, siamo arrivati a Carpi. Ci siamo dimenticati del materiale da portare. Siamo dimenticati i piatti della batteria. Sì, siamo già di nuovo ritornati. Carpi, Pistoia, Pistoia, Carpi, tutto questo in tempo per poter suonare a loro precisi. Bellissima, bellissima, davvero, bella esperienza. Lui non era molto... Me lo ricorderò. La propongo anche a altri, se vogliono provare, andare e fare questa cosa, è bellissima. Adrenalina, sì, sì. Tipo, mamma ho perso l'aereo. C'è qualcosa che io... Mamma ho perso piatti. Io sono dei vostri, una volta sono arrivato una serata, ho aperto la custodia e mi hanno scordato la chitarra dentro. Capita, capita. Altri concerti? Abbiamo girato, praticamente sulla Toscana l'abbiamo fatti, ora ci manca e stiamo traprendendo ora questa cosa, però con questa pandemia siamo un po' fermi perché sennò era di poter andare fuori. Sì, però ora ci ha bloccato un po' e nino, ma si spera, almeno appena finisca, di fare queste... Poter partire, sì, mini tour, insomma. Poter partire, perché ci manca. State comunque lavorando ad altri progetti? Sì, si sta lavorando a progetto nuovo, ora si sta partendo con dei singoli che sarebbero per il secondo disco, però roba nuova, materiale nuovo da poter buttare subito appena... Essere pronti, diciamo appena è finito, non rimane indietro da avere già il materiale pronto per andare e farlo sentire un po' alla nostra gente, via, il metallaro, via. Bene, avete dietro una casa discografica, un'agenza di booking... Siamo... Sì, siamo con la Irukanji, Booking Live Promotion, lui che sta facendo un ottimo lavoro, ci sta promuovendo come può ora in questo momento, però siamo attivi sui social, abbiamo un nuovo canale YouTube, Facebook, Instagram, anzi ci possono trovare ovunque. Diciamolo, certo. Sì, cerchiamo adesso di vedere, di poter andare un po' fuori, partecipare a mini tour, live, quello che ci può permettere di fare, so che sta lavorando anche su un tour radio, di un interviste radio insomma in tutta Italia, quindi vediamo un po' di... Sì, tutto quello che è possibile fare ora, dai. Esatto, sì. Vediamo il video, Fabia. Andiamo. Bye. Sì. Se libera sul mostro che ho dentro, non ci sarò per escapare Se libera sul pelo che penso, vintare per ora il gaspolo Conto una piccola, conto una perfetta che L'accio se ha mai stato, il mostro dentro di me Il mostro dentro, poi del mostro che ho dentro A un mare fa parte di me, ho provato di intratarlo A talo cerrarlo da me, per quanto lo terroscapì Una via di sfuglia non c'è, come il seguito mi ritrova Il mostro dentro di me, il mostro che mi consuma Incapolato nel lombra, incapolato nel lombra Quello che non cambia, non cambia Non finirà mai Non finirà mai Se liberassi il mostro che ho dentro, non ci sarò per escapare Se liberassi quello che penso, mi darebbero le gaspolo Continua a fingere, continuo a far finire che Non ci sia mai stato, il mostro dentro di me Penseremo prima o poi, quest'anno di tempo Aspettando la pioggia, che non arriva mai Si spenderemo Incapolato nel lombra 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 Allora mostro dentro, che non c'è l'espello Allora mostro, che bruciare tu Allora mostro dentro, che non c'è l'espello 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 A presto Il mostro dentro abbiamo visto, ma cos'è per voi questo mostro? Chi è? Il mostro dentro credo era anche un po' interpretazione, ora è vero che il testo è stato ripreso, io l'ho interpretato a mia volta a modo mio però ognuno comunque di noi credo abbia un mostro dentro che ogni tanto ha bisogno di uscire e di essere sfogato insomma e appunto la canzone parla di questo Il video che abbiamo appena visto, dove è stato girato, si è voluto raccontarci anche qualcosa su videomaker, insomma fare anche un po' di pubblicità La location Era un capannone, era abbastanza marcio vero? Il classico capannone marcio Sì perché sì e poi era luglio mi sembra se non sbaglio, insomma era caldissimo E niente, ci è venuto in mente di farlo lì, che appunto era marcio come posto Ha fatto Nicolas Donati Era quello che volevate voi, un posto marcio Eh sì Non mi piace, non deve essere più legge possibile Tutti i muri, le scritte Togliamo l'occasione di salutare il nostro Nico che ci ha girato il video, Nicolas Donati Grandissimo Un amico e ha fatto un bel lavoro Ottimo È venuto un bel lavoro Ci siamo contenti Ci siamo divertiti Sì Anche a girarlo, insomma Sì Vare e varie riprese La sicura fanosa con la birra Ecco, un tetroscena che volete raccontarci di quella giornata Un gran caldo Un gran caldo No, no, togli la tutta della birra Sì, ok Beh, a parte il caldo che è venuto un giacchettato Poi mi è toccato mettere in maniche corte Però E nulla, si vuole agire a sta scena con una spruzzata di birra alla mega punk, no? No, cosa così Non riuscivo a spruzzarlo E se che, niente Cioè, ho provato Andrea Ma mi ha bagnato me Ha fatto la doccia Puzzavo di birra a schifo Non mi è riuscito neanche a me E niente Vari tentativi Alla fine ne siamo usciti Comunque è stato molto molto divertente Poi per me era anche il primo video che io avessi mai girato In vita mia Per cui è stato molto molto divertente quello Ah, una bella esperienza comunque Sì E tra l'altro anche noi Allora si cerca di fare un po' di sortire dalle regole Diciamo Che prima ha visto il disco La gente Insomma, le bande Anche il disco Era bello Cioè Bellissimo Mi piace molto Perché tenete sempre vivo il canale Quindi è ormai quasi più utile fare canzone e video Che fare il disco intero Ecco i suoni bellissimi Trava belli pesanti Dove avete registrato? Noi andiamo Siamo rimasti Fedeli Andiamo allo studio Allo studio Allo Focina studio Da Giacomo Da Jack Salani E dal primo pezzo che abbiamo registrato Sempre da lui Sempre No ma aveva dato un'impronta Ve lo dicevo prima Non avete ragione Non avete un'influenza proprio Che si può trovare così facilmente È un crossover molto vario Mi piace Potente Poi Cantato così Ottimo cantante Cioè avete Davvero Avete trovato Abbiamo trovato il nostro primo Un vocalista No è sempre difficile Trovare il cantante Adatto Specialmente a questi generi Quindi quando uno ci riesce Alla grande No no infatti Anche noi Appena L'abbiamo Sentito È venuto a provare Amore attimo Inganciato subito Amore attimo Quindi diciamo che Non ci sono stati troppi cambi Di line up Ecco Visto e preso Vieno subito soddisfatto Sì 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 Abbiamo avuto fortuna Anche Nonostante Ha visto il periodo Perché prima Avevamo un altro Un altro cantante Sembra Però Sì sì Ottimo Ci siamo Diciamo Rimessi In moto Subito Siamo stati fortunati Di via Mi trovo benissimo Per cui No no poi si vede il feeling Che quando c'è subito Ora a proposito Domanda Che tanto l'hanno fatto Migliaia di volte Donna che sono A batteria In un gruppo Metal di uomini Stavo dicendo Anche io Arrivavo al lato tecnico La prima volta che Di solito Batterista in gruppi All femmine Tutte donne Ma batterista Donna in un gruppo Di uomini Davvero Io non me le ricordo Quindi è una novità Come ti trovi Con questi macioni Ma io mi sono sempre Trovata bene Diciamo sì Perché comunque Sono tutti Abbastanza carini Quanto Diciamo no Non sono No Mi trovo bene Vabbè Con lui per forza Mi ragazzo Per vent'anni Si sta insieme Si capo con lui Per forza Tu lo dicessi Eh guarda Eh Ti rovinato Eh Ti rovinato Eh vabbè Ora non posso più Fandura No niente Finito Come vai la scelta Di questo strumento Partendo magari Appunto dai Dai tuoi studi Eh Mi è sempre piaciuto Eh Mi è sempre piaciuta La batteria Fin da piccola Quando Vedevo concerti Ok La prima cosa Che guardavo Che aveva ascoltato Era quella Poi mio fratello Un giorno Mi ha regalato Per il compleanno La prima batteria E di lì Non ho Non ho più smesso Bravo fratello Si davvero Grazie Questa fantastica Si davvero Mentre invece Il tuo setup Ecco da chitarrista Che Setup Diciamo Non ho avuto Tanto da patire Ho trovato Diciamo Chitari Banez Cort Diciamo Jackson Ora Ultimamente Sono con L'Ibanez Però mi sono sempre Trovato bene È una chitarra Diciamo Da giro E da corsa Cioè da fare Come posso dire Giro veloce E anche La corsa Mi trovo bene E niente Pedaliere Diciamo Distorsione E via Ecco Da lei In studio Hai usato Plug-in O distorsioni Reali Con cassa Vecchia maniera No Diciamo Uso Io Menomale Ho una distorsione Normale Cioè Non è che Ho grande Una pedaliera Che Un distorsione Una testata Sì ma delle volte è semplice Guarda Il semplice delle volte è meglio Perché si arriva più dieti Assolutamente Specialmente In questi geni Magari non arrivi mai A quello Cioè mi sembra Di aver ottenuto Quello che vuoi Cerchi sempre Però diciamo Perfezione Che la gente Mi ha sempre fatto Dei complimenti Non mi sono tanto Diciamo Una volta Nessun distorsione Basta Si va Suoniamo Suoniamo un do Già È una accordatura Che Droppe In droppe Dicià ti permette D'avere Una cosa Un po' di Si gonfia Da sé C'è Un po' di Distorsione E So a posto Basta Ci avete portato Anche delle foto Che andiamo subito A vedere E vi chiederei In anticipo Di raccontarcele Questa è una bellissima foto Questa è epica Sì Siamo a Serravalle Pistoiese Casa vostra Sì Siamo in cima Alla torre Praticamente Tirava un vento Pauroso Però Alla fine La foto non è venuta male Siamo abbastanza belli Di uno shooting Fa parte di una copertina No È un Set fotografico Che abbiamo fatto Diciamo appena Appena entrati in agenzia Nella Irukanji Perché Non avevamo Molto materiale Quindi Abbiamo deciso Di fare un po' Di foto Per Poi per promozione Per Sulle pagine Su Facebook Su Instagram Insomma Per Per avere un po' Visibilità Sì Sì Non so se era quella foto Ma Non mi ricordo se era quella Ma c'evo tipo il sole sparato Nell'occhio Adesso tipo la vista Per fare una foto lì Sì Questa? È uguale Stessa location Anche qui Sì Tra l'altro La fotografa Che Sembra Dito Avete preso un fotografo Professionista No La cognata del bassista Bravissima Fatta con un telefonino Quindi È riuscita A farci belli Anche Solo con un telefonino È stata brava Questa è la Questa è la Mi preferita Madonna È bellissima Viene lo stretto I brividi Astrofobici Scansatevi Qui siamo proprio dentro La torre Dentro la torre Sì sì Bello Qual è tipo Il vostro approccio Al palco Durante Un concerto Come vedete Diciamo L'interazione Col pubblico Ma Si cerca Noi D'essere Cioè Come posso Dire Interagire Sì Il più possibile Cioè Ci deve essere Un po' Di Di pathos Tra Siete chiacchieroni C'è quelli che parlano O quelli che pestano E cercano Vesterci il pogo Cioè Lo motivate Anche Perché se il pubblico Si diverte Si diverti di più Anche A parte io Che non mi diverto mai Perché sono Tesissima Quindi io mi nascondo Dietro La batteria Non voglio vedere niente Nessuno Perché sennò Perdo la concentrazione Entro nel panico Però sì Si cerca di interagire Il più possibile Col pubblico Basta farci un casino sotto Ah io non so Io sono Sottile abbastanza Timo Specialmente all'inizio Però se è vero che la gente Mi figlia bene Cioè Portanto poi ci deve essere la birra Quello è fondamentale Dell'esibizione Poi il resto Spaccare Spaccare Sì sì Ecco il genere che fate voi Suonate a click O invece andate un po' a pathos Andate dietro a un tempo Allora abbiamo I pezzi Diciamo quelli Nuovi Sì col click Perché usiamo le basi Però i pezzi Quelli del primo cd Andiamo a pathos Perché quelli sono nati così Quindi non va a modificarli Non ce la siamo sentita Andiamo a pathos Gli altri sì Gli altri usando basi Sì Non ricoporre sempre Proprio fedelmente Uscire un po' Diciamo dallo schiumettino Sì Se no non servirebbe Niente in live Quindi voi all'attivo Avete comunque due dischi No All'attivo uno Uno L'altro disco Non lo abbiamo fatto Usciamo pezzo pezzo Diciamo sono tutti singoli È in procinto Quindi uno dei progetti futuri Ecco Esatto sì Ottimo Sì Purtroppo Il nostro spazio Diciamo È finito qui È stato un piacere Avervi conosciuto Grazie mille E noi ci incontriamo sempre Oni giovedì Qui su Clivo TV Canale 680 Seguiteci Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti